E continua il nostro viaggio nel mondo di One Piece con i capitoli 888 e 889, quindi c'è stata una settimana di pausa tra questi due capitoli, ho deciso quindi di radunarli in un unico video, tanto oramai i video singoli di singoli capitoli non li riesco a fare, quindi abituiamoci a questo. Il capitolo 888 si apre con la continuazione della battaglia tra Rufi e Katakuri, questo ovviamente solo per le prime due pagine se non addirittura meno, per poi spostare l'attenzione alla fuga dei restanti Mugiwara e della Sunny da Big Mom, una Big Mom che quindi ha radunato e sta non solo rincorrendo ma tutti i suoi pirati, tutti i suoi figli stanno cercando di fermare la Sunny, perché ricordiamo che Big Mom crede che lì ci sia la torta nuziale e nel momento di difficoltà più elevata, Carrot guardando ovviamente la luna, l'aveva già citato il fatto che ci sarebbe stata la luna piena, guardando la luna piena si trasforma e sbrocca il potere segreto dei Mink, mi sembra si chiami la sua razza. Comunque appunto quando c'è la luna piena, loro diventano selvaggi, anche se per un periodo di tempo rimangono lucidi, possiamo dire un po' come Chopper, o ancora meglio citando Dragon Ball, un po' come i Saiyan quando si trasformano in scimmie. Comunque sblocca questo potere e mette in completa difficoltà tutta la flotta di Big Mom, sia per forza sia per agilità. Quindi poi continua nel capitolo 889, si unisce Brook a questa battaglia, intanto Sanji continua a creare la torta sulla nave di Capone, e alla fine però Carrot raggiunge il limite, perché come ho detto ha un limite di lucidità, poi diventa veramente una belva che non riesce a distinguere alleati e nemici, quindi ritorna ad essere normale, dice che per tornare normale basta che si copra gli occhi e che comunque non guardi la luna, e viene portata sulla Sanji e vediamo una Big Mom mai vista, che nemmeno i suoi figli hanno mai visto, ovvero una Big Mom in completa crisi d'astinenza, da dolci, perché appunto ha rincorso per un fin troppo tempo senza mangiare, senza mangiare nel corso per troppo tempo i Mugiwara, quindi sono tutti preoccupati perché è un territorio sconosciuto, nessuno sa come possa reagire una Big Mom portata all'estremo, quindi raccoglie, recupera il sole, la nuvola, di cui ora non ricordo i nomi Zeus e Prometheus mi sembra, quindi si unisce a loro e riesce ad arrivare, a raggiungere e a salire a bordo addirittura della Thousand Sunny, quindi riesce a raggiungere la nave, e il capitolo 389 si chiude con un Jinbei che dice di prepararsi perché devono assolutamente abbandonare la nave. Questi due capitoli mi sono piaciuti tantissimo, io sono uno che ama Carrot, ama alla follia Carrot, ho trovato che questa trasformazione, oltre a essere fighissima, veramente ha portato il personaggio su un altro piano, e l'unico commento che veramente posso fare a questi due capitoli è, ditemi voi, tutti a dire che il prossimo Mugiwara sarà Jinbei, perché Jinbei, ora ditemi voi se un personaggio come Carrot che ha dimostrato non solo, io l'ho sempre detto che ha il suo sogno, quello di comunque viaggiare, di scoprire il mondo, e alla pari degli altri Mugiwara, e comunque ha anche dimostrato di avere la forza per poter combattere un domani al fianco di Rufy e compagnia, poi comunque è un ottimo personaggio, un personaggio simpatico, e poi diciamoci la verità, per quanto possa piacere Jinbei, per quanto possano piacere altri personaggi, ci vuole un po' più di quota e rosa all'interno dei Mugiwara, sì, ovviamente è un coniglio alla fine lei, però comunque serve un personaggio dotato di vagina per Diana. Quindi, assolutamente due ottimi capitoli, forse è il finale dell'889 che un po' inizia ad essere ripetitivo, ovvero sarà per circa la terza volta di fila che i Mugiwara, come Mugiwara intendo quelli presenti sulla Sunny, sono in difficoltà e devono studiare un metodo veloce per riuscire a scappare da Big Mom, oramai questa situazione sta iniziando a diventare un po' troppo ripetitiva, come risolveranno lo scopriremo solo nel capitolo 890, peraltro ho notato adesso che tra un po' arriviamo a ben 900 capitoli. Detto questo, noi ci rivedremo l'anno prossimo con i capitoli di One Piece, con il nostro viaggio verso Raftel, ripeto, perché più ci penso e più lo devo ripetere, Carrot, top personaggio attuale di One Piece, oltre che, concedetemi un po' una perversione, un'ottima waifu, winky winky, comunque ci rivedremo nel 2018, dove lo stesso Oda ha dichiarato che finirà questa saga, la saga di Wall Cake Island, per iniziare la saga di Wano Kuni, una saga che 99 su 100 vedrà lo scontro contro Kaido, e che a detta di Oda sarà addirittura più grande di Marineford. Non so veramente cosa possa accadere, per essere più grande di Marineford probabilmente ci scappa il morto tra i Mugiwara, l'unica maniera per essere più grande di quella saga. Detto questo, noi appunto ci rivediamo al prossimo video con il nostro viaggio verso Raftel.